Grazie Andrea, vi do il benvenuto a questo spazio di approfondimento che come sapete è dedicato alla FIAIP, la Federazione Italiana di Agenti Immobiliari Professionali. Oggi è venuto a trovarci il segretario nazionale di FIAIP, Fabrizio Segalerba, al quale do subito il nostro benvenuto. Buonasera. Buonasera a lei. Grazie di essere qui con noi perché con lei oggi torniamo a parlare di una realtà importante. FIAIP è tra le principali, se non la più grande associazione di categoria del settore da oltre 45 anni, raggruppa in suo seno una serie di profili professionali molto diversi ed è il punto di riferimento di informazione e di consulenza per gli associati, per i professionisti ma anche per le famiglie italiane. È una capillarità sul territorio importante perché parliamo di oltre 10.000 agenti immobiliari, 15.000 agenzie, insomma più di 45.000 operatori del settore. Sì, assolutamente. FIAIP nasce, come diceva lei, nel 1976 in un momento molto diverso dall'attuale, quindi l'esigenza da parte degli allora mediatori immobiliari di costituirsi in un'associazione, in un sindacato per tutelare quella che era la figura proprio del mediatore e contribuire alla crescita professionale e culturale del mediatore stesso. Grazie al contributo di FIAIP, 13 anni dopo, quindi nel 1989, si arriva alla legge professionale, la legge 39-89 che ancora oggi, nonostante alcune modifiche, integrazioni a quello che era il testo originale, regola e disciplina quella che è la vita dell'agente immobiliare. Quindi, e oggi FIAIP persegue ancora quelli che erano le intenzioni e le volontà di coloro che, quasi in maniera da pionieri, se possiamo usare questo termine, mettendosi in macchina a proprie spese, cercando e girando lo stivale per costituire quelli che erano i nostri collegi provinciali e regionali, ma proprio perché si sentiva forte quella che era la vocazione, quasi, di creare un sindacato, di unirsi, di far sentire la propria voce e soprattutto per legittimare quella che era una figura non ancora così pienamente consolidata e conosciuta. Dopo 45-46 anni, FIAIP è oggi una realtà importante del comparto, raggruppa, come diceva lei, un numero molto interessante e molto importante di agenti immobiliari. La cosa che a noi fa piacere è che siamo in costante crescita, quindi c'è proprio una volontà di far parte della federazione e oggi, soprattutto, la federazione è legittimata, è riconosciuta a livello politico, istituzionale, quindi è un sindacato di primo livello, è un'interlocuzione costante anche con le forze parlamentari di tutto l'arco costituzionale, quindi è riconosciuta. E in questo c'è la possibilità per la nostra federazione di portare all'attenzione del legislatore quelle che sono le istanze degli agenti immobiliari, ma anche quelle che sono le realtà e le necessità del comparto immobiliare, perché poi alla fine FIAIP rappresenta e lavora non solamente per i propri associati, ma per tutti coloro che compongono il variegato mondo, soprattutto dell'intermediazione immobiliare. E quello che oggi FIAIP si pone come obiettivo è quello di giungere ad un mercato immobiliare sempre più trasparente, perché il mercato ne ha assolutamente bisogno. E parleremo anche delle novità normative in materia, anche perché c'è stato un importante provvedimento recepito anche a livello legislativo, ne parleremo, però per cominciare magari le chiederei una prima riflessione sull'andamento del mercato immobiliare e nel nostro Paese, un settore che evidentemente ha un peso rilevante per la vitalità e l'economia del Paese. Quindi le chiedo qual è la situazione in questo momento, anche rispetto alla situazione dei mutui bancari. Ma il mercato, ormai siamo quasi in fase di bilancio, siamo a fine anno, il mercato è andato bene, il mercato immobiliare anche nel 2022 ha fatto registrare dei numeri importanti, soprattutto in quantità di transazioni immobiliari. Dalla nostra stima del nostro osservatorio immobiliare dovremmo chiudere intorno alle 755.000 compravendite, grossomodo, quindi con un leggero rialzo rispetto allo scorso anno. Quindi questo sta a dimostrare la vitalità e l'importanza di un settore, di un comparto, che non dimentichiamo rappresenta comunque il 20% abbondante del PIL del nostro Paese. Dopo gli anni più difficili, seguiti a quella che è stata la crisi purtroppo diventata famosa, dei subprime dal 2008 in avanti, ricordiamo che noi abbiamo avuto un momento di grande crescita dall'inizio degli anni 2000, poi successivamente con l'introduzione dell'euro. e quindi nel 2006 sostanzialmente siamo arrivati intorno alle 870.000 compravendite, quindi quello che possiamo forse definire l'apogeo massimo del mercato immobiliare. Ma da lì, proprio a causa della crisi dei subprime che ha investito tutto il mondo e purtroppo anche il nostro Paese, consideriamo che sette anni dopo, quindi nel 2013, abbiamo toccato il punto più basso con poco più di 403.000 compravendite, quindi in sette anni abbiamo perso quasi un 60% di compravendite. Da lì c'è stata comunque una fase di crescita del mercato, sicuramente quello che poi ha spinto in maniera importante è stato i ridotti tassi dei mutui, quindi la possibilità e quindi una maggior facilità di accesso al credito che ha contraddistinto tutto questo periodo e quindi anche una rinnovata volontà, insomma aggiustandosi anche un attimino quello che era il quadro economico, quindi una rinnovata volontà di avvicinarsi al mercato immobiliare, anche perché con la flessione dei prezzi anche i rendimenti sono tornati ad essere interessanti. Adesso siamo in una fase particolare della nostra economia, perché il mercato immobiliare è passato da quella che è stata la crisi della pandemia da Covid che nessuno di noi poteva assolutamente immaginare, temevamo e anche quelli che erano le previsioni di importanti scenari sembravano prevedere quella che potesse essere quasi una catastrofe, un crollo del mercato immobiliare. Il mercato invece ha dimostrato di essere molto resiliente e di saper affrontare quello che era una situazione particolarissima, diverso. Dal famoso 4 maggio con la riapertura di tutte le attività c'è stato veramente una corsa a quello che è il mattone, quindi la volontà, probabilmente anche le persone chiuse in casa durante il periodo del lockdown hanno riscoperto proprio la necessità, la volontà di vivere la casa, di abitarla in maniera diversa rispetto a quanto probabilmente eravamo abituati a fare prima. E quindi il mercato ha dimostrato molto dinamismo. I tassi di interesse ovviamente hanno facilitato tutto questo, perché non dimentichiamo che il mercato immobiliare è strettamente dipendente, connesso a quello che è il credito, l'accesso al credito, perché circa l'80% delle nostre transazioni sono supportate da un finanziamento bancario. È chiaro che purtroppo dopo la fase legata alla pandemia abbiamo scoperto un'altra situazione che pensavamo fosse impossibile da rivedere quantomeno in Europa, quindi la guerra alle nostre porte, e anche questo lasciava presumere che ci potesse essere una situazione di difficoltà del mercato, quindi una contrazione in quello che potevano essere le transazioni e le compravendite. Dopo qualche momento di tentenamento il mercato ha comunque continuato a far registrare numeri importanti, e quindi anche nel 2022 sicuramente si ripete l'anno interessante che è stato il 2021. Abbiamo riscoperto però un fattore nuovo, che in effetti erano forse 30 anni che non eravamo più abituati, cioè la spinta inflazionistica, e questo ha modificato un attimino quello che potevano essere le intenzioni da principio, soprattutto degli analisti, più ancora dei risparmiatori, dei cittadini. Quindi si temeva che potesse esserci una contrazione, sebbene di fronte ad una spinta inflazionistica il mercato immobiliare è sostanzialmente lo strumento che mette a riparo i nostri risparmi. È chiaro che oggi viviamo un momento di inflazione molto diverso da quello che eravamo abituati, che abbiamo vissuto, per chi ha i capelli un po' più bianchi come me, c'era negli anni 70. Cioè in quel momento era con la famosa crisi energetica, anche lì il mercato immobiliare dimostrò una forte attrazione e quindi una crescita importante non solo del numero delle transazioni, ma anche dei valori. Chiaro che in quel momento era, se possiamo così definirla, tra virgolette un'inflazione buona dovuta a un aumento dei consumi. Oggi abbiamo una situazione diversa, dove purtroppo con l'aumento soprattutto delle commodities, delle materie prime, noi importiamo, il nostro paese purtroppo importa inflazione. Però anche qua, anche in questo momento, abbiamo dimostrato, il mercato ha dimostrato di saper reggere l'urto e anche quello dell'aumento dei tassi. Perché dopo il primo aumento, il primo 0,75 di fine agosto, inizio settembre, dove comunque c'è stato un attimo, se vogliamo, di contrazione, quasi di timore, di allarmismo da parte dei consumatori, da parte dei nostri clienti. Però poi in realtà si è ripreso in maniera importante e non è tanto la crescita, sicuramente importante, dei tassi di interesse, quanto una minor facilità nell'accesso al credito. Cioè da parte degli istituti bancari, ovviamente, c'è una maggiore attenzione, memori anche di quello che era successo giusto nel post 2008, dove i mutui venivano concessi con troppa facilità e abbiamo purtroppo in quella situazione espulso dal mercato tutta una serie di potenziali acquirenti, ma soprattutto molti si sono trovati in difficoltà con un aumento vertiginoso dei tassi. Intanto grazie di questa fotografia molto completa, anche complessa, della situazione. In questo senso, anche proprio rispetto ai nuovi scenari delle opportunità di business che il real estate evidentemente riserva, come è cambiata? Le chiedo la figura dell'agente immobiliare professionale. Sappiamo che non parliamo di un professionista tuttofare, ma più che altro di un'agenzia che offre più servizi e quindi le chiedo anche quali sono le nuove sfide che avete di fronte. Ma sicuramente il ruolo e la figura dell'agente immobiliare sta cambiando. Sta cambiando perché in primis lo impone il mercato e poi perché si sta evolvendo la figura dell'agente immobiliare. Oggi si va sempre più verso una direzione della consulenza di mercato, una consulenza veramente ampia. FIIP in questo da tempo sta indicando ai propri associati l'importanza dell'agenzia multidisciplinare, perché le competenze dell'agente immobiliare sono oggi trasversale ai vari aspetti che compongono il mercato stesso. Sicuramente la federazione, l'indicazione che dà è quella di un costante aggiornamento, di una costante crescita qualitativa e culturale, e professionale ovviamente, della figura dell'agente. Oggi non basta più mettere in relazioni due parti, come ancora il Codice Civile recita, ma anche recenti sentenze di Cassazione, tra l'altro una anche di pochi giorni fa, dove si evidenzia l'importanza della figura dell'agente immobiliare, il quale deve rendere conoscibili alle parti tutte quelle che sono le situazioni che interessano a quella determinata transazione. Non basta più il dire mi è stato riferito. Oggi l'agente immobiliare ha l'obbligo di effettuare determinate, tutta una serie di verifiche, da un punto di vista urbanistico, catastale, fiscale, e di questo rendere dote le parti. Piuttosto, qualora non sia riuscito ad effettuare tutte queste verifiche, perché magari il tempo non è stato sufficiente, perché ci sono dinamiche particolari, ha l'obbligo di rendere manifesta alle parti quelle che sono state le attività che è riuscito a compiere, quindi a portare avanti. Segretario, avrei voluto chiederle molte più cose, ma noi siamo certi che verrà a trovarci per rispondere ad ulteriori domande, quindi dare delle risposte, delle delucidazioni, anche perché no per comunicare ai nostri telespettatori cosa significhi anche aderire e iscriversi a una federazione come FIAIP. Magari ne parliamo la prossima volta insieme. Intanto invitiamo chiunque volesse saperne di più a visitare naturalmente il sito ufficiale della federazione www.fiaip.it. Gli operatori, professionisti, sono a vostra completa disposizione per ogni dubbio o chiarimento. Io ringrazio il segretario nazionale di FIAIP, Fabrizio Segalerba, per essere intervenuto a Radio Roma Television. Grazie. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Io intanto restituisco la linea ad Andrea Bozzi e a Roma di sera e vi auguro un buon proseguimento di serata sulla nostra rete. Grazie, arrivederci a presto.